Bufera sul Partito Democratico a poco più di un mese dal voto amministrativo, dopo l'avviso di garanzia a Stefano Graziano, ex deputato e presidente del partito in Campania, per presunti favori e clan della Camorra in cambio di voti. Fare chiarezza al più presto e piena fiducia nei magistrati, dice il vice segretario Dem Guerini. Le opposizioni, Lega e 5 Stelle all'attacco. A fondo contro l'Italia da parte del presidente della Bundesbank Jens Weidmann, che lancia un avvertimento al nostro paese. Avete un debito alto e siete una minaccia per la stabilità dell'eurozona. Critiche alla Commissione Europea e al ministro Paduan, troppo ottimista sui conti, dice ancora Weidmann, che loda però le riforme sul lavoro fatte dal governo. Da oggi l'Austria annuncia nuove regole sui controlli al Brennero per frenare il flusso di migranti. Critiche al nostro paese da parte del leader dell'ustradestra austriaca Höfer, vincitore del primo turno alle elezioni presidenziali. Nella notte tensione sconto al campo profughi di Lesbo, dove si era recato Papa Francesco. Nelle primarie americane Donald Trump trionfa nei cinque stati, nel nord-est ormai è mia la nomination repubblicana, dice il miliardario, che si prepara a vincere anche contro la Clinton. L'ex segretario di Stato invece ha vinto, ha battuto Bernie Sanders in quattro stati su cinque. Sono le 7.31, una buona giornata dal telegiornale che apriamo andando allora a cercare di capire quali saranno le evoluzioni di questa inchiesta che ha sconvolto il Partito Democratico in Campania, ma ha visto anche l'arresto di nove persone. Ci sono già molte reazioni politiche, ma intanto partiamo dalla cronaca. Concorsa esterna in associazione per delinquere di stampo mafioso per questo motivo alla procura di Napoli ha indagato il presidente del PD Campano Stefano Graziano, ex deputato consigliere regionale coinvolto in un'inchiesta della direzione distrittuale antimafia che ha portato in carcere per tangenti l'ex sindaco di Santa Maria Capoavetere Biaggio di Muro e disposto agli arresti domiciliari per altre otto persone. Secondo gli investigatori, Graziano che si è autosospeso dal Partito Democratico, rimanendo però in carica come consigliere regionale, avrebbe ricevuto appoggi dal clan Zagheria alle ultime elezioni regionali e in cambio si sarebbe posto, stando a quanto scritto nelle carte come punto di riferimento politico ed amministrativo del clan. Nel corso di colloqui intercettati tra Alessandro Zagheria e Biaggio di Muro si faceva riferimento proprio all'appoggio elettorale che occorreva garantire a Graziano. Perquisizioni sono state effettuate nel Consiglio regionale della Campania e nell'abitazione di Roma e Caserta del consigliere regionale alla ricerca di ulteriori elementi che possano allargare le indagini. Indagini che sono partite da un appalto sospetto con evidenza pubblica per il restauro di un palazzo storico di Santa Maria Capoavetere sequestrato negli anni 90. Graziano si sarebbe attivato ma questo non costituirebbe reato per favorire il finanziamento dei lavori del palazzo muovendosi per scongiurare che si perdessero i fondi stanziati per destinarli ad un altro capitolato di spesa. Dai lavori per la ristrutturazione però secondo gli inquirenti si sarebbe sviluppato un giro di presunti accordi illeciti e mazzette da decine di migliaia di euro mascherati da fatture false necessarie a raccogliere quella che nelle carte viene definita la provvista. Dicevamo tante già le reazioni politiche, lo stesso Graziano quando ha saputo di questo provvedimento si è immediatamente autosospeso per lasciare campo alle indagini e ovviamente le opposizioni hanno dato battaglia ma a proposito appunto dell'autosospensione di Graziano il Partito Democratico si è messo subito nuovamente in contrasto con il Movimento 5 Stelle che avrebbe usato, dice, due pesi e due misure. A poco più di un mese dalle amministrative, nel pieno della polemica con i magistrati, il caso Graziano crea nuove tensioni nel PD a Plazzo Chigi. Renzi per ora tace anche se trapella la sua irritazione, per lui parla Lorenzo Guerini. Totale incondizionata fiducia nel lavoro della magistratura, dice il vice segretario Dem, chiedendo di chiudere rapidamente le indagini e fare chiarezza al più presto. Intanto le opposizioni, che non sono disposte a fare sconti al partito di maggioranza, si scatenano. La Lega, con Matteo Salvini, parla di reati gravissimi e collusione con la criminalità organizzata a carico del partito al governo. Dal Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio attacca. Il presidente del Partito Democratico Campano è indagato per Camorra, fino all'anno scorso era anche consulente del governo Renzi. Mentre il suo compagno di direttorio, Roberto Fico, definisce il PD un partito distrutto e permeabile a qualsiasi infiltrazione, lobby, gruppi di affaristi, criminalità organizzata. Parole che Plazzo Chigi respinge come falsità, visto che l'incarico a Graziano come consulente del governo era stato dato da Enrico Letta e non rinnovato da Renzi alla scadenza del dicembre 2014. Nel PD le inchieste si rispettano e i coinvolti si autosospendono nel Movimento 5 Stelle, omertà per i propri e gogna per gli altri. Doppia morale ribatte il senatore Andrea Marcucci. Certo è che il nuovo caso giudiziario è un macigno pesante da digerire per il PD, che però respinge qualsiasi strumentalizzazione politica. Per questo l'autosospensione di Graziano dall'incarico di presidente del PD Campano e dal partito stesso viene considerata al Nazareno un atto dovuto. E veniamo invece adesso ai nostri problemi economici o meglio a quelli che secondo il presidente della Deutsche Bank Jens Weidemann dovremmo avere. Perché come sapete è sempre stato molto critico nei nostri confronti e ieri era in Italia a letto una relazione di 30 pagine nella quale davvero non ci viene risparmiato nulla. Giocava fuori casa all'ambasciata tedesca a Roma il presidente della Bundesbank Jens Weidemann ma non ha rinunciato a lanciare messaggi precisi alla Commissione Europea, alla BCE di Draghi, all'Italia. Messaggi evidentemente condivisi con i vertici del governo tedesco a cominciare dal tetto ai titoli di Stato detenuti dalle banche. Una proposta appena bocciata dall'Ecofin ma che la Germania è pronta a rilanciare perché, ha sostenuto Weidemann, bisogna spezzare il legame stretto tra banche e debito visto come uno dei principali rischi per la stabilità finanziaria dell'eurozona. Senza quel tetto, ha detto il numero uno della Buba, non sarà possibile dare il via libera alla garanzia comune europea sui depositi e qui si arriva a uno dei punti principali del suo discorso, quello sulla condivisione dei rischi e delle responsabilità. Secondo il ministro Padoan costituirebbe un forte incentivo al rispetto delle regole, una visione troppo ottimistica invece per Weidemann che esclude che quella condivisione sia possibile senza rafforzare i meccanismi di controllo comune. Come? O attraverso la creazione di un'autentica unione fiscale, traguardo quasi impossibile da raggiungere vista anche la resistenza degli stati membri, o attraverso il rafforzamento del quadro esistente, togliendo cioè alla Commissione, troppo portata a scendere a compromessi a danno del rispetto dei vincoli di bilancio, secondo Weidemann, i compiti di controllo. Del resto, da quando esiste l'Unione Europea, ha detto Weidemann, le regole del patto di stabilità sono state violate da alcuni stati, tra cui l'Italia, più spesso di quanto siano state rispettate. Le stilettate del presidente della Bundesbank, posizioni note e niente di scandaloso, hanno commentato dal Ministero dell'Economia. Non hanno risparmiato neanche Mario Draghi e la sua politica di acquisto di titoli di Stato, che offusca, secondo Weidemann, i confini tra politica monetaria e politica di bilancio. Intanto oggi al Brennero, sempre per parlare di questioni che comunque ci coinvolgono, ma che coinvolgono anche tutta l'Europa, l'Austria terrà una conferenza stampa per fare sapere appunto che cosa intende fare a proposito della chiusura, del valico, della frontiera e non ci si aspetta nulla di buono. Ma nello stesso tempo viene in Italia in visita il responsabile della Commissione europea per l'immigrazione, Avramopoulos, che va ad inaugurare insieme al Ministro Alfano a Catania un centro importante che raffronta e rafforza Frontex, quindi insomma mostrando una sorta di attivismo nel nostro paese, che è proprio quello che invece ci viene rimproverato di non avere dall'Austria. Comincerà alle 13 la sfida sui migranti dell'Austria e l'Italia. Vienna ha convocato infatti per questa ora una conferenza stampa al Brennero per illustrare quella che è stata chiamata la gestione di controllo di confine, con i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'assessorato alla viabilità. È il piano antimigranti annunciato dal governo austriaco che di fatto si trasforma in una chiusura del valico, proprio pochi giorni dopo l'entrata in vigore dei controlli al confine con l'Ungheria. Controlli inevitabili, spiega il 45enne Norbere, offre il leader di estrema destra vincitore al primo turno delle presidenziali, che preme per i confini più blindati. Non mi fanno di certo piacere, ma non abbiamo altra scelta. Roma non agisce e quindi tocca a noi, conclude l'ingegnere, che della sicurezza ha fatto il punto centrale della sua politica e che al ballottaggio del 22 maggio potrebbe diventare il nuovo presidente austriaco. Dalla Commissione europea si attende invece di capire cosa stia accadendo. Sarebbe pronta una procedura di infrazione se le misure austriache dovessero essere non necessarie e sproporzionate. La libera circolazione è la più grande conquista dell'Unione e sono determinato a difenderla, spiega in un'intervista a Repubblica il commissario europeo per le migrazioni Avramopoulos. Ma l'Italia deve essere preparata ad affrontare una nuova emergenza migratoria. Deve accelerare i rimpatri volontari. Il nostro paese, dice, ha fatto progressi e con gli hotspot in funzione in Italia e Grecia quasi il 100% degli arrivi viene registrato. Ma bisogna schedare i nuovi arrivi anche al di fuori degli hotspot, conclude Avramopoulos, che oggi sarà a Catania per inaugurare insieme al ministro dell'interno Alfano la nuova sede della Tax Force di Frontex, che dovrà fronteggiare la nuova emergenza immigrati, con la quale dunque l'Europa dovrà fare i conti ancora per parecchio tempo. Proprio ieri nel campo di Moira, sull'isola di Lesbo, quello dove era stato in visita a Papa Francesco, è scoppiata una rivolta nella parte dell'accampamento che ospita i rifugiati minorenni non accompagnati dopo l'apertura di un varco nella rete che separa le due sezioni. E come sapete la maggior parte dei richiedenti asilo, dei migranti che arrivano al nostro paese, arrivano dalle coste libiche. Si parla da tempo ormai di un intervento in Libia. I tempi si stanno facendo sempre più stretti, si discute sul numero del contingente di soldati da inviare. Le cifre ballano parecchio. Non i 900 uomini di cui hanno scritto, poi smentiti alcuni giornali, ma potrebbero essere circa 300. Sono questi i numeri del contingente sul quale si stanno orientando gli analisti delle Nazioni Unite che raccogliendo l'appello lanciato dal premier libico Serraj stanno studiando i piani di un eventuale intervento nel paese nordafricano. Un contingente che dovrebbe essere guidato dal nostro paese. Il contributo dell'Italia, in attesa di conoscere quello delle altre nazioni partecipanti, dovrebbe essere inizialmente di circa 50 uomini selezionati fra esercito e d'arma dei carabinieri con funzioni soprattutto di addestramento del personale libico. Per ora Renzi frena ogni via libera in attesa che ci sia chiarezza su un accordo politico. Entro dieci giorni si attende il via libera al governo di riconciliazione che ha già incassato quello della comunità internazionale con il pieno sostegno dal vertice G5 di Hannover che ha visto sedersi allo stesso tavolo Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia e Germania. In Libia nelle prossime ore è atteso l'arrivo dell'inviato speciale dell'ONU Martin Kobler. Obiettivo della sua missione è quello di eliminare gli ultimi ostacoli alla nascita del nuovo governo. Fra questi c'è quello posto dalla generale ribelle Khalifa Haftar, capo di una milizia che ha combattuto gli islamisti a Benghazi che nei giorni scorsi ha ricevuto armi dagli Emirati Arabi Uniti e che controlla il Parlamento di Tobruk ma che ancora non appoggia il governo Serrage. La situazione sul terreno intanto resta instabile con i combattenti dell'Isis che continuano ad avanzare soprattutto nell'est del paese puntando verso i pozzi petroliferi, gli impianti di stoccaggio e carico del greggio. Andiamo negli Stati Uniti andiamo a vedere questa notte di primarie finita con una vittoria assoluta di Trump in campo repubblicano e una vittoria quasi assoluta per Hillary Clinton. Se fosse una partita a carte Trump sarebbe l'asso pigliatutto così come la Clinton che però al netto dei risultati ha perso una mano. Nell'ultimo Super Tuesday delle primarie americane che con gli stati del nord-est ha di fatto chiuso il capitolo East Coast il super milionario di New York ha infatti conquistato 5 stati su 5 mentre Hillary solo si fa per dire 4. Una vittoria notevole comunque per entrambi con una valanga di candidati racimolati utili a rafforzare le reciproche posizioni in vista del test finale decisivo di giugno in California di cui Trump però non sembra affatto preoccuparsi. Questa è stata la notte più grande mi considero il presunto candidato repubblicano ha infatti esultato il tycoon nel suo quartier generale la Trump Tower sulla quinta strada con al fianco la moglie Melania e il figlio Eric e tra gli altri l'ex candidato GOP alla presidenza Chris Christie. E poi tanto per non farsi mancare nulla in quanto a dichiarazioni politically correct ha concluso con una battuta sessista. L'unica carta che ha da giocare Hillary Clinton ha detto è quella di essere donna se fosse un uomo non raggiungerebbe il 5% dei voti. Ma la Clinton non raccoglie e anzi con l'ultima vittoria in Pennsylvania con Erigate, Maryland e Delaware la sua strada sembra sempre più spianata verso la candidatura tanto che a Philadelphia gioca ad anticipare il futuro. Tornerò qui, promette dal palco con la maggioranza dei voti e dei delegati vincolati. Perché proprio a Philadelphia che si terrà la convention democratica a luglio che incoronerà ufficialmente il candidato presidente per lo scontro finale per la Casa Bianca che ogni giorno che passa sembra essere sempre più una candidata. Allora, questa è la politica ad alti livelli negli Stati Uniti anche noi abbiamo la nostra politica ma insomma la questione è molto più ristretta se volete perché si dibatte di amministrative ed è ancora una volta al centro-destra al centro, scusate, il gioco di parole delle querelle. La più perentoria è Giorgia Meloni che sentenzia il centro-destra come l'abbiamo conosciuto è un'esperienza chiusa infatti quello che fu lo sfioramento a guida Berlusconi sembra ormai passato con i partiti che seguono traiettorie diverse una separazione sancita proprio dalle elezioni amministrative a Roma così Matteo Salvini vola addirittura in America per rimarcare le differenze e incontra Donald Trump il magnate populista più che mai lanciato alla conquista della candidatura repubblicana per la Casa Bianca il magnate USA che pure è stato paragonato a Berlusconi ma l'ex cavaliere ci tiene a prendere le distanze dal suo estremismo per rivendicare un profilo moderato e per bollare Trump come un incrocio tra Grillo e Salvini Matteo Salvini invece non ha dubbi e augura all'imprenditore a stelle e strisce di diventare presto presidente degli Stati Uniti e Trump ricambia e auspica per il leader della Lega un futuro da premier italiano a Roma la candidata sindaco numero uno di Fratelli d'Italia sostenuta dal Carroccio pensa ad una cosa diversa della vecchia coalizione il tutto con il sapore di una sfida proprio verso Berlusconi che intanto tiene duro e non arretra sulla designazione di Guido Bertolaso un errore di tre startaggi nello boccia Salvini una scelta che aiuta Renzi sono loro che fanno il gioco della sinistra contraattacca Bertolaso loro hanno scombinato la situazione inoltre l'ex capo della protezione civile svela che lui era anche disponibile a fare un passo indietro e a rinunciare alla candidatura ma Forza Italia non ha voluto una decisione che raccoglie il plauso di un altro candidato moderato Alfio Marchini mentre un altro leader centrista Pierferdinando Cassini spiega che la scelta di Bertolaso dimostra che Berlusconi non si rassegna a una sterile subalternità rispetto ai due populisti Salvini e Meloni i moderati di Forza Italia e quelli che invece sostengono Renzi spiega Cassini devono tornare a parlarsi e a dar vita al PPE italiano adesso ci occupiamo di Cronaca è la storia che vi vogliamo raccontare non la troverete oggi sui maggiori quotidiani è una storia minore però noi l'abbiamo ritenuta importante esemplare di una certa situazione di parte della classe media italiana un colpo di pistola ciascuno si sono uccisi perché non riuscivano più a pagare il mutuo della casa Lucio Leonelli e Grazia Spessato marito e moglie 50 e 47 anni i loro corpi in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dai carabinieri nella loro camera da letto tenuta perfettamente in ordine in quell'appartamento al pieno terra di una palazzina di Poggio a Caiano vicino Prato che avevano messo in vendita qualche mese fa dopo che lei era stata licenziata ma che non riuscivano a vendere avevano ancora tra i 100 e i 130 mila euro da estinguere stipendi bassi così avevano pensato di vendere la casa finire di pagare il mutuo e andare a vivere all'estero probabilmente in Bulgaria dove il costo della vita è più basso lui dipendente di una cooperativa che lavora il pesce per la grande distribuzione lei ex guardia giurata che adesso si arrangiava facendo le pulizie a domicilio hanno usato la pistola di lei per togliersi la vita un omicidio suicidio pianificato con cura senza tradire nessuna particolare emozione neanche con le persone a loro più vicine e risalente almeno a un mese fa quando di Lucio e Grazia si erano perse le tracce poi cinque giorni fa il fratello di lui ne aveva denunciato la scomparsa amici e conoscenti erano convinti si fossero già trasferiti all'estero invece marito e moglie non erano riusciti a partire perché quel piano di rifarsi una vita altrove era stato ostacolato dalla mancata vendita della casa e di conseguenza dall'impossibilità di estinguere il mutuo i soldi erano sempre meno e le rate del prestito correvano accanto al letto gli investigatori hanno trovato un biglietto che sarebbe stato scritto dagli stessi coniugi scusateci non ce la facciamo più parliamo di sport parliamo della semifinale di Champions League ieri l'andata il Manchester City non è riuscito a andare oltre lo 0-0 in casa contro il Real Madrid non c'era Cristiano Ronaldo stasera sfida dell'altra squadra di Madrid l'Atletico e i tedeschi del Bayern Monaco una notte di occasioni perdute con il marziano del Real Madrid Cristiano Ronaldo confinato in tribuna per il persistere di un risentimento muscolare con la forza della cabala ultimo match europeo degli spagnoli senza Ronaldo terminato con una sconfitta due stagioni fa con il vantaggio del fattore campo per il Manchester City la chance di indirizzare la prima semifinale di Champions della sua storia era un obbligo più che una opportunità e forse è stato proprio il peso di questo obbligo che ha appesantito gambe e soprattutto cervello degli uomini di Pellegrini il primo tiro in porta i padroni di casa lo hanno confezionato all'inizio del secondo tempo con un evanescente Agüero dopo una prima metà passata a studiare un avversario che senza Ronaldo ha finito per togliere punti di riferimento e con il passare dei minuti è stato proprio il Real Madrid a doversi rammaricare di più per l'occasione non sfruttata fino in fondo ovvero chiudere già all'andata la pratica relativa alla sesta semifinale consecutiva la traversa prima e poi la bravura del portiere inglese Hart miracoloso in almeno due interventi su Casemiro e Pepe hanno impedito agli spagnoli di disegnare il ritorno del Santiago Bernabeu con un risultato che sarebbe già stato una mezza sentenza e così mentre a proposito di occasioni perdute forse anche Massimiliano Allegri avrà pensato al doppio successo della sua Juventus nella fase a gironi contro questo stesso City il Real inizia a pregustare il sapor di finale in attesa di seguire stasera Atletico Madrid Bayern Monaco un match in apparenza chiuso nel pronostico se si guarda la differenza di Blasone tra gli spagnoli alla prima semifinale e la corazzata tedesca tre volte in finale solo negli ultimi sei anni ma che il tecnico dell'altra metà di Madrid Diego Simeone giocherà contro Pep Guardiola alla sua maniera di lotta e di cuore per uscire dal catino del Vicente Calderon senza rimpianti per occasioni perdute Allora sono le 7.50 noi ci fermiamo qui e diamo la linea a Paolo Sottocorona che finalmente torna al lavoro nei nostri studi poi invece toccherà Gaia Tortora la conduzione di Omnibus e noi invece saremo in onda come sempre a partire dalle 6 e mezzo di domani mattina passate una buona giornata